Credo che si possa ambire ad avvicinare le squadre davanti a noi e lo credo fermamente e quindi per questo ho accettato questa sfida. Oggi chiedere noi qualcosa alla gente non è facile per me, credo che noi dobbiamo dare qualcosa. Che cos'è? Atteggiamento, voglia, determinazione, fame di poter finire la partita stremati, con attenzione, con orgoglio. Entrando a febbraio come terzo allenatore non ho grandi difficoltà a lasciare le gerarchie come erano. Lo spogliatoio è sacro per i giocatori, sanno gestirlo. È evidente che da allenatore come sono, come ho grande rispetto e lascio la gestione dello spogliatoio ai giocatori, è evidente che il controllo per tutte le situazioni, non solo quelle della fascia capitano, passano per l'allenatore.